Rispetto allo scorso anno, stesso periodo, tre mesi, marzo, aprile e maggio, rispetto al 2019, c'è un aumento della morosità di circa 35 mila euro, quindi siamo passati dai 41 ai 75 mila euro di morosità, quindi segno che su queste fasce, che sono le più deboli della popolazione, anche se molti di loro pagano dei canoni piuttosto bassi, ma l'emergenza Covid ha inciso parecchio. Con la crisi la morosità è quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente. Il Comune di Arezzo ha così deciso di stanziare 35 mila euro ad Arezzo Casa per le famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si tratta di dare un contributo concreto a quegli utenti che hanno perso il lavoro durante i primi mesi dell'emergenza, o comunque quelle famiglie che hanno subito una drastica riduzione delle entrate. È un atto dovuto da parte del Comune che non dimentica a fasce deboli della popolazione, rientra nella maxi delibera portata avanti dal Comune. È un primo passo. Sappiamo che è un modo per ridurre, azzerare le prime criticità, ma sappiamo che purtroppo l'emergenza Covid avrà anche degli strascichi nei mesi successivi. È stato un lavoro importante portato avanti con Arezzo Casa e con i sindacati, che hanno dato il benestare a questo regolamento. Il Comune darà un contributo ad Arezzo Casa, che in base alle richieste e alle domande gestirà i vari passaggi. Il sostegno riguarda il cannone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 luglio all'email sostegnocovid.arezzocasa.net. Vorranno beneficiare i cittadini di residenti ad Arezzo che abbiano determinati requisiti per cui non siano assistiti già da servizi sociali e che non siano morosi per più di due mensilità nei confronti di Arezzo Casa nel momento della partenza, diciamo, dell'emergenza. Per cui, per il resto, con un'autodichiarazione, i nuclei familiari dovranno dichiarare che nel periodo marzo-aprile e maggio hanno subito una riduzione del reddito complessivo pari o superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi, per far domanda, poi, grazie alla collaborazione con i sindacati, i principali sindacati, che seguiranno e assisteranno gli utenti che vorranno fare richiesta e anche direttamente scaricando i moduli che sono presenti sul sito Arezzo Casa nell'home page, quindi dove si trova sia il regolamento sia il modulo per la richiesta. Arezzo Casa, infine, relazionerà al Comune di Arezzo in merito all'impiego di queste risorse entro il 31 dicembre.